Bentornati su Radio Italians e buon agosto a tutti. Dunque dunque di cosa parliamo oggi? Parliamo di riforma della giustizia, quella che sta occupando giornali e telegiornali in questi giorni. Poi parliamo di Green Pass, una vocalist, una di voi che lascia messaggi vocali, mi ha chiesto ma Montanelli cosa avrebbe detto del Green Pass? Domanda interessante. Poi parliamo di Novax, come trattare con loro o non trattare, parliamo di vaccinati, se noi vaccinati siamo contagiosi e quanto e poi parliamo di Napoli, della circunvesuviana e alla fine parliamo anche di Olimpiadi e di telecronisti. Pronti? Via! Buongiorno Beppe, io volevo farle una domanda su cosa ne pensa lei della riforma Cartabia, del fatto che il CSM è molto contrario per le varie ragioni che tutti quanti sappiamo e anche del fatto che l'Unione Europea aveva richiesto una revisione importante del diritto civile, visto che le nostre cause durano dieci anni e ci sono delle situazioni allucinanti, assolutamente impensabili. Cosa ne pensa? Grazie moltissimo, arrivederci. Cosa ne penso? Penso che bisognava pur cominciare. È da quando ho iniziato il mestiere, 40 anni fa, che sento dire da giuristi, da magistrati, da avvocati, da giornalisti che hanno seguito la cronaca giudiziaria molto più di me, che il sistema non funziona. Ma ogni volta i correttivi proposti non vanno bene. Stavolta il governo ha deciso, il Parlamento è d'accordo, quindi si parte da qua. La improcedibilità cos'è? Vuol dire se dopo un certo periodo di tempo non si arriva a sentenza, il processo si arresta. Di fatto una prescrizione sotto altro nome. Allora, la vergogna dei processi infiniti la conosciamo, però è vero, esiste anche il rischio che l'imputato furbacchione la tiri lungo, lo sappiamo. Allora toccherà ai magistrati lavorare bene e più velocemente. Adesso in questa riforma sono stati dati mezzi e personale, per esempio l'assistente dei magistrati è un elemento importante, però credo che ci siano altre questioni che dovrebbero essere affrontate. Penso al sistema barocco delle notifiche che allunga tutto o ha la possibilità di ricorrere in appello quando davvero non ha senso. Io ho letto Paolo Mieli, il nostro Paolo Mieli, che appunto di giustizia si è occupato molto di più di meno, conosce bene il tema. Lui a un certo punto si chiede se la magistratura non sia ormai incapace di riformarsi, visto che è tutta contro la riforma. Poi smentisce l'ipotesi, però il pensiere è inquietante. Guardate, io sono in Sardegna, ieri per caso ho incontrato a Santa Teresa Gallura un magistrato, lei è sarda di origine ma lavora in Lombardia, che mi ha detto la stessa frase, dice io ho molti dubbi su cose che leggo in questa nuova riforma cartabile, però mi ha detto la stessa frase da cui sono partito io. Bisogna pur cominciare. E poi arriva, ecco torno alla sua domanda, la giustizia civile, che è altrettanto importante, perché chiunque di noi è passato inevitabilmente per un tribunale, capita nella vita una causa per un motivo o per un altro, tutti sappiamo cosa vuol dire trascinarsi queste cose per anni, qualche volta per decenni, è intollerabile. E poi arriverà la riforma, deve arrivare la riforma nel sistema carcerario e poi la riforma nel Consiglio Superiore della Magistratura che mi sembra che ne abbia molto bisogno con tre O. Se non facciamo questo, al di là di tutto, i soldi europei non arrivano, quindi conviene farlo. Ciao Beppe, a proposito di Green Pass anche io volevo farti due domande. La prima è, fino a che punto il fine giustifica il mezzo? E la seconda è, dato che qualche giorno fa era l'anniversario della scomparsa di Montanelli, Montanelli cosa avrebbe pensato del Green Pass secondo te? Come l'avrebbe visto? Grazie, buona giornata, ciao ciao. Cara vocalist, devo dire che mi imbarazzo un pochino attribuire opinioni a chi non può smentire quello che dico e non soltanto perché Montanelli è il mio maestro, proprio in genere, però a domanda provo a rispondere. E francamente non ho molti dubbi, credo che sarebbe stato favorevole, anzi molto favorevole al Green Pass, non ho dubbi. Credo che avrebbe criticato questo tratto italiano anarcoide, logico, emotivo, un po' egoista, ma di chi e rifiuta il vaccino, non di chi si mette ordinatamente in coda e si fa vaccinare come la grandissima maggioranza di noi. Il fine, per rispondere all'altra domanda, mai chiesto se il fine giustifica i mezzi? Allora, il fine di tornare a vivere e lavorare insieme giustifica ampiamente il mezzo che è quello del vaccino. Molto semplice. A proposito, post scriptum, ho sentito una vocina trillare alle tue spalle, immagino sia un bimbo, aveva un trillo molto intelligente. Io suggerirei di chiedere anche a lui, ehi, cosa ne pensi del Green Pass? Buongiorno Severnini, sono Paolo di Pavia. La settimana scorsa ti ho mandato un vocale dove ti parlavo di un mio litigio con un vicino Novax. Ecco, tu mi hai risposto con grande garbo, con grande stile, che però non bisogna essere intransigenti, bisogna insomma dialogare con questi qui per spingerli alla scelta giusta. Io ti devo dire in tutta sincerità che non ho più nessuna voglia di dialogare con chi mi definisce un cretino e che ha mandato il cervello all'ammasso solo perché ho fatto la doppia vaccinazione. Io, sinceramente, Beppe, con questi non ho più voglia di parlare. Perdonami. Un caro saluto. Beh, grazie di esserti rifatto vivo. Dunque, fai bene, guarda, a non litigare. Approvo, per qualche conto approvo, è come se approvo. Un suggerimento. Ogni tanto, mandagli una bottiglia di Sauvignon Fredda quest'estate, ogni settimana, con un bigliettino, con su scritto vaccinarsi fa bene. Magari si beve tutte e poi, boh, magari si prenota. Gentile Beppe, partendo dall'assunto che anche i vaccinati non sono immuni dal contrario del Covid e anche in forma asintomatica, il fatto che il Green Pass, gli esenti per nove mesi da qualsiasi controllo, non credi sia una contraddizione del sistema? Si potrebbe verificare il paradosso di assembramenti legali, ma di fatto pericolosi. Cosa ne pensi? Beh, sì, i vaccinati possono essere contagiosi. Badate bene, quando io vengo fuori con queste affermazioni, non è che mi metto a fare l'immunologo, il virologo, l'epidemiologo improvvisato, come ogni tanto capita nella categoria. Io cito, sto per esempio, citavo Anthony Fauci, che è il capo consulente medico della Casa Bianca, all'apertura del pezzo di Silvia Turin sul Corriere, che dice, si può presumere che le persone vaccinate possano trasmettere il virus come possono farlo le persone non vaccinate. È un evento molto insolito e raro, ma si verifica. Perché è molto insolito e raro? Perché per essere contagiosi i vaccinati devono essere contagiati, ma è raro, visto che sono vaccinati. Certo, un piccolo rischio c'è, ma l'alternativa qual è? Allora, ripetiamo, questi sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, l'efficacia dei vaccini. Queste sono le quattro cifre che dovete mettervi in testa e che superano qualsiasi discussione. Efficacia del vaccino contro l'infezione, 88%, efficacia del vaccino contro il ricovero in ospedale, 94%, efficacia del ricovero in terapia intensiva, 97%, efficacia contro il decesso, quindi il rischio di perdere la vita, 96%. Quindi stiamo tranquilli, ragioniamo pure sulle eccezioni, però la regola è vaccinati, difendiamo noi stessi, difendiamo gli altri, soprattutto d'estate, visto che è agosto e ci muoveremo tutti, mi raccomando. Caro Beppe, con l'Italia è sempre un rapporto amore e odio. Il paese con il più gran numero di siti iscritti al patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e poi un amico che ha vissuto in posti come Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Belgio, Olanda, Francia, se ne va a Napoli e mi scrive la cosa seguente. Siamo sulla circunvesuviana, pensare che sia il collegamento ferroviario tra Napoli, Ercolano, Pompei, Costiera Amalfitana è inquietante. Neanche in Uganda credo abbia un'infrastruttura di questo livello e parliamo di global touristic sites. Non abbiamo capito un, e ti lascio immaginare l'ultima parola, ma perché finiamo sempre così? Perché non riusciamo mai a valorizzare come si deve il bene di cui abbiamo ereditato? Dunque, non ero in grado di risponderti, perché sulla circunvesuviana credo di essere salito per l'ultima volta vent'anni fa, quindi ho girato il tuo vocale a un carissimo amico di Napoli che mi ha risposto in questo modo, mi ha detto sostanzialmente che non hai torto e mi è sembrato piuttosto demoralizzato perché lui è orgoglioso della sua città, ma non sempre. Quindi l'amico napoletano che fa il dottore, il medico di mestiere, ha aggiunto però una cosa interessante, ha detto secondo me il problema è la qualità della classe dirigente, cioè di quelli a capo di un progetto e mi ha detto guarda vale per la circunvesuviana come vale per Atlantia. Ricordate la storia del ponte di Genova e la manutenzione delle autostrade. Questo dice il mio amico di Napoli, medico. Buongiorno, so che la mia domanda è impossibile ma stiamo seguendo con passione le Olimpiadi e i telecronisti sono facendo un lavoro mediocre, anziché pause di mezz'ora non possono spiegare le regole del gioco, non è che tutti guardano judo o tequandu tutti i giorni, anziché fare pause spiegano almeno le minime regole così chi segue può apprezzare di più il gioco. Ma credo che sia un errore che commettiamo tutti, non soltanto i telecronisti sportivi, noi giornalisti tendiamo a dare per scontate le cose che conosciamo. Nel caso dello sport c'è un elemento in più forse che alcuni sport che non sono il calcio, che non sono il tennis, che non sono il basket, arrivano all'Olimpiadi e per chi segue questi sport e li commenta è una bellissima occasione e magari nell'entusiasmo ci si dimentica che le persone magari vedono quello sport per la prima volta in televisione, io parlo della mountain bike al tiro al tachewondo e quindi forse qualche indicazione in più sarebbe necessaria. Comunque a giustificazione di tutti, ai colleghi telecronisti e anche chi si ne occupa sui giornali o alla radio, sono Olimpiadi complicate, sono psicologicamente faticose, molto più faticose di quelle che ho vissuto io, sempre in Asia, 2008, Pechino, erano Olimpiadi impegnative perché di fatto finivi di lavorare a tardissima sera, di fatto alle prime ore del mattino perché tanto in Italia era ancora giorno e subito dopo dormevi poche ore e correvi a vedere le gare del giorno dopo, dopo dieci giorni questo ritmo diventa molto impegnativo. Quindi Olimpiadi complicate, faticose per i fusi orari faticose per questioni di Covid e non solo. Però onestamente è vero, tutti quanti noi giornalisti dovremmo sempre ricordare che chi legge, chi ascolta, chi guarda ha bisogno di un'informazione in più, non di un'informazione in meno. Visto che è l'ultima puntata prima della pausa di agosto, lasciate che ringrazi Tommaso Pellizzari, Carlo Annese e Francesco Giambertone che mi hanno dato una grande mano, non soltanto dal punto rivista produttivo ma anche molti buoni consigli. E naturalmente ringrazio tutti voi perché senza di voi Radio Italians non esiste, non solo quelli che lo ascoltano e so che siete parecchi, i numeri li vediamo, ma soprattutto quelli che lasciano i messaggi, i vocalist come li chiamo io, perché siete voi che decidete di cosa si parla ogni volta, non sono io, io provo a rispondere. Quindi grazie, questa è una cosa che facciamo insieme, è un po' nello spirito di Italians, il forum che è in pista, pensate dal 1998, questa è una versione settimanale vocale di cui al Corriere siamo tutti orgogliosi. Quindi niente, mi raccomando, riposate, leggete, viaggiate, pensate che non fa mai male, state attenti, naturalmente, di non cacciarvi in posti che vi sembrano poco adatti, soprattutto se non siete vaccinati ancora o se avete una dose sola di vaccinazione e lasciate messaggi vocali, il numero lo conoscete è 345-612-5226, è il numero di Radio Italians, lasciateli anche durante il mese di agosto, così facciamo diciamo scorta di spunti e poi ripartiamo, noi ci risentiamo domenica 5 settembre. Quindi da Radio Italians e da me, Beppe Severgnini, una bellissima estate, un agosto sereno, ne abbiamo tutti bisogno. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Corriere Daily, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari.